come dice adidas confirm le hai aspettate le hai volute le abbiamo inviate finalmente sono arrivate ciao a tutti ragazzi io sono andrea doraz o semplicemente doraz e benvenuti in questo nuovo video sigla oh eccoci qua eccoci qua benvenuti o bentornati sul mio canale vi lascio qui sotto tutti i link per seguirmi su tutti i miei social oggi nuovo video unboxing ovviamente prima vi ricordo come sempre che molti che vedono i miei video non sono iscritti al canale mi raccomando è importantissimo per noi che facciamo questo se volete che continuiamo a fare questo questo lavoro questo queste cose che facciamo mi raccomando iscrivetevi al canale e like al video che conviene fate quello che volete insomma tutto in descrizione trovate il comando è veramente importantissima non immaginate qua lo sentirete tutti penso qualsiasi youtuber vedete lo dice perché è veramente importantissimo detto questo è appunto per trovare un video oggi video unboxing questo è un video unboxing che era un po di tempo che non facevo allora lascio qui sopra il precedente video unboxing e anche alla fine di questo video che avevo fatto in merito a un paio di scarpe izzi sì perché ormai le izzi sono un prodotto che sembra che non continuerà più a esistere nel senso che la partnership adidas kenny west è finita perché kenny west è solamente folle come persona e quindi giustamente un'azienda come adidas non poteva accostarsi a un personaggio così eccentrico come kenny west quindi le izzi ormai credo che non usciano più e quelle che stanno uscendo adesso attivamente sono c'è diverse sono credo una rimanenza di quelle che avevano e che volevano appunto dare al pubblico e quindi le stanno a ondate abbastanza importanti addirittura se vuoi andare sull'idas confirmed troverete una sezione dedicata proprio alle izzi dove potete acquistare alcune si possono acquistare proprio così come un paio di scarpe normale ovviamente e dopo pochi giorni le riceverete a casa vostra altre quelle un po più esclusive bisognerà partecipare al lancio come al solito però tutto il resto è abbastanza semplice da acquistare quindi detto questo andiamo ad aprire un pacco che contiene prima che mi vola via tutto qua paio di scarpe izzi ovviamente dal titolo si capisce quali sono ma magari vedremo nel dettaglio più che altro un paio di scarpe che non ho mai avuto non ho mai avuto questo paio di scarpe qui quindi non vedo l'ora di aprirle per vedere come sono effettivamente dal vivo le avevo già viste dal vivo da un ragazzo un commesso in un negozio ho detto mazza però pensavo fossero molto più strane molto più brutte strane sono strane brutte secondo me no andiamola a vedere eccoci qua eccoci qua eccoci qua sono tornato finalmente con un unboxing questa è la scatola con cui arriva eh alias non c'è niente di che unboxing di un paio di scarpe finalmente eccoci qua ecco qua la nostra famosa scatola delle izzi queste sono le izzi 500 qua niente non c'è spesso niente perché giustamente non sono buste quindi non c'è spesso buste un po' non vediamo un po' oh eh mamma mia quanto si sta mamma mia allora guardate quanto sono particolari veramente stupende io veramente queste scarpe sono unico le scarpe che ho rivaudato tantissimo perché ero troppo convinto che fossero brutte la prima volta che le ho viste ma perché ero abituato con le altre izi quindi queste erano molto strane invece guardate quanto sono belle spettacolari hanno anche questa parte qui reflecting intorno vediamo anche un'altra troppo bellissima anche la parte interna con questo spacco qui mi piace veramente tantissimo guardate quanto sono strane adiprene tecnologia molto morbide qua belle veramente fighe speriamo che siano anche comode non vedo l'ora di mettermele sono veramente interessanti andate da sopra quanto sono strane amma mia bene bene ecco qua i nostri adidas izi 500 500 guardate che figata oh eccoci qua eccoci qua bene ecco qui qua le nostre izi 500 bone white la colorazione veramente spettacolari veramente molto fighe molto particolari veramente un po' di scarpe che non si vedono tutti i giorni questo mi piace ma anche un po' delle izi sono queste scarpe che comunque hanno queste queste forme queste linee molto molto strane quindi sono stato veramente soddisfatto di queste scarpe nonostante uno possa dire che siano molto strane ed è vero però posso dire che non sono così brutte come pensavo poi sono super comode perché hanno la di plane qua sotto che è super morbido quindi insomma che dire a me hanno veramente convinto ci sono tante colorazioni poi nere marroni insomma questo però secondo me è il cuore che mi piace di più questo bianco sporco mi piace molto quindi spero che questo video unboxing vi sia piaciuto fatemi sapere voi se acquisterete se avete acquistato ultimamente un paio di scarpe di queste tipologie qui e noi ci vediamo alla prossima con tanti nuovi video un saluto da me e dalla EZ500 bonewhite grazie a IAS confermete per questa piccola chicca che io volevo comprarmela volevo comprarmela però ho visto che costavano tanto sui siti con i telesel invece per fortuna appena ve l'ho trovato 210 euro prezzo diciamo di listino tra virgolette credo che sia top top a questo bene alla prossima un bacione e ci vediamo tutto in descrizione e ci vediamo alla prossima insomma cosa vedete ormai ciao ciao